Ciao a tutti, oggi siamo entusiasti di essere qui insieme a Alessio, uno dei nostri studenti, che è qui per condividere la sua storia e le sue esperienze nel nostro percorso formativo offerto da Lundere Academy. Ciao Alessio, come va? Ciao Celsi, buonasera, tutto bene, grazie a tutti. Bene, bene. Per cominciare vorremmo che ci parlassi un po' di te, del tuo lavoro e delle tue attività quotidiane. Sì, certo. Allora, io sono Alessio, ho 33 anni e nella vita diciamo mi occupo di informatica, sono un ingegnere informatico e più precisamente nello specifico faccio lo sviluppatore mobile, iOS e quindi niente, quotidianamente mi occupo di questo, lavoro per una multinazionale tedesca e scrivo codice tutto il giorno, ecco. Oh, divertente. E quali erano i tuoi problemi prima di inirti al nostro programma? Allora, diciamo che sinceramente i problemi sono venuti dopo, nel senso che io mi ero approcciato al trading già da qualche tempo, qualche anno, però era più un'attività fatta, tra virgolette, diciamo a tempo perso, un po' come passione, come hobby, qualcosa che mi interessava, in curiosità, però non lo facevo con grandi, diciamo, con grandi aspirazioni, un grande dedizione. Una volta poi intraprese il programma è lì che magari sono saltati agli occhi, diciamo, determinati problemi, problematiche che avevo in precedenza e che appunto il percorso poi mi ha aiutato a superare, dandomi più che altro una visione anche diversa del trading, di questa attività, ecco. Siamo passati da un qualcosa che appunto facevo come hobby, possiamo dire, a un'attività vera e propria che seguo con molto più impegno attualmente e sono cambiate anche le prospettive. Diciamo che attualmente quello che mi auspico è che possa diventare un'attività, diciamo, concreta, solida e quindi farla magari anche perché diventare nel futuro la mia principale attività, insomma, vado a sostituire un po' quello che faccio attualmente. Amazing! Cioè, bello, bellissimo! Cosa ti ha motivato a scegliere il nostro programma anziché altre opzioni disponibili sul mercato? Allora, diciamo che variando, vabbè, ne ho visti un po' di tutti i colori, diciamo, ci sono tantissime offerte, sponsorizzazione, pubblicità, come le si può chiamare, di accadene, fantomatici trader, che però quando sei già al minimo dentro il settore capisci subito che stanno tentando di venderti il nulla, ecco, perché a fronte di magari impegni economici risori promettono, comunque sia, diciamo, ti promettono dei profitti, dei guadagni che non sono astronomici e non sono per niente vicini alla realtà, ecco. Quindi, la Unger Academy, invece, il percorso offerto alla Unger Academy, possiamo dire che mi ha colpito per due punti principali. Il primo punto è stata proprio la trasparenza da questo punto di vista, ossia di eventuali profitti, risultati che si possono raggiungere, perché sin da subito mi è stato detto chiaramente di non aspettarmi chissà quali cifre, la macchetta magica, vuole sicuramente tanto impegno, tanta dedizione, va fatto con serietà, è un buon trader, magari nel medio e lungo periodo, in una buona annata, può arrivare a percentuali mediamente 20-30%, ecco. Quindi sì, sono sicuramente delle cifre molto più vicine alla realtà e questo, diciamo, mi ha fatto piacere, proprio questo tipo di trasparenza. E poi sicuramente, in secondo luogo, anche il fatto, insomma, il fatto di andare a Unger, i suoi risultati, che è un qualcosa che, diciamo, lo puoi comprovare, sono delle cose, se intende, dati di fatto, ecco. È un qualcosa di comprovato e anche il fatto, appunto, che lui sia tra i migliori trader italiani, ma di fama mondiale, ecco, è riuscito ad arrivare a vincere quattro volte i campionati nel mondo di trading, questo è un qualcosa di reale, insomma, non può essere niente di intentato. Perciò, diciamo, questa è stata un po' la mia valutazione quando mi sono deciso a intraprendere questo percorso con voi. Grazie, grazie. E dopo aver messo in pratica quanto appreso dai vari moduli del programma, quali successi hai raggiunto? Allora, diciamo che io sono partito un po' con i piedi di piombo, me la sono andata con molta calma, perché ho seguito il corso, ho codificato parecchie strategie e poi sono stato un po' lì a guardare, ho fatto parecchio paper trading, proprio perché volevo vedere un attimino quello che avevo costruito, come cosa potrei tirare fuori, ecco. E anche un po' per studiare bene la piattaforma che utilizzo e capire come gestire eventuali situazioni poi in live. Quindi io sono andato live a febbraio 2023 e diciamo che sono venuti, abbiamo veramente ottimi risultati, quindi sicuramente ciò che ho appreso durante il corso è servito, mi ha fatto crescere molto e attualmente insomma i risultati pian piano stanno arrivando. Ottimo, grazie mille. C'è stato qualche aspetto del nostro programma che ti ha particolarmente aiutato nell'argino dei tuoi risultati? Allora, sicuramente mi ha aiutato molto rispetto a prima, in precedenza io facevo più caso trading discrezionale, che mi ha aiutato molto ad avere un metodo, avere delle linee guida, che mi hanno quindi anche portato a capire gli errori e le cattive abitudini del passato e sicuramente mi ha dato fondamenta più solide sotto certi punti di vista che sono essenziali, come per esempio il money management. E poi diciamo che un po' mi ha, proprio l'approccio al 3D sistematico mi ha cambiato un po' totalmente la visione perché ti permette di lavorare, di andare anche a esplorare mercati diversi che prima non ha, ai quali magari non riuscivi a approcciarti e quindi anche di conseguenza avere una diversificazione maggiore, questo ti aiuta tanto a poi andare a battere quello che può essere il fattore di rischio. In più mi ha aiutato un sacco dal punto di vista, diciamo è andato, il trading sistematico riesce ad eliminare quella che è la parte emotiva che invece c'è spesso quando si fa trading discrezionale quindi avere lì delle strategie che girano, lavorano per quello, fanno quello per cui sono state costruite ma non ci sei poi tu dietro che magari in momenti particolarmente emotivi vai a fare qualche danno quindi insomma togliere tutta questa parte emotiva insomma mi ha aiutato molto da avere poi ottimi risultati e infine credo che sia vincente proprio il metodo unghia di per sé nel senso che non per, diciamo non per banalizzare, non voglio dire che è semplice ma è di facile apprendimento, o meglio io l'ho trovato di facile apprendimento è facile anche poi nell'utilizzo. Come dicevo, essendo uno sviluppatore non ho avuto particolari problemi, anzi quasi nessuno dal punto di vista di codifica e strategie ma devo dire che non ho avuto neanche proprio nell'apprendimento del metodo durante il corso. Ecco, questa è una bella cosa. Come è cambiata la tua vita, non solo economicamente però anche in termini di consapevolezza dopo aver seguito? Beh sì, dal punto di vista economico diciamo che non ci sono stati grossi cambiamenti ancora perché è il primo anno e quindi sicuramente i cambiamenti maggiori sono proprio arrivati dal punto di vista di visione, di prospettiva come diciamo attualmente porto avanti questa attività quindi la visione del trading. Se prima era un qualcosa fatto proprio al tempo perso attualmente invece è un'attività che voglio cercare di far crescere con serietà dedicandoci del tempo e portarlo a un livello maggiore ricollegandone a quanto detto prima quindi cercare poi magari anche di farlo diventare un'attività, la mia attività principale ecco quindi c'è sicuramente stato un cambiamento più che altro a livello di prospettiva e di approccio al trading poi cambiamo si spera che si sviluppi anche il lato economico Grande! Dove credi che saresti ora se non avessi deciso a iscriverti e di iscriverti al nostro programma? Beh sicuramente dove ero in precedenza ossia non conviene niente nel senso di prenderla un po' come gioco come passione ma senza avere una visione più seria, più a lungo termine è sicuramente anche meno interessante rispetto ad adesso adesso insomma è un qualcosa che certo richiede impegno e dedizione però lo faccio anche con piacere, con più piacere rispetto a prima Ottimo, ottimo E per concludere hai qualche consiglio per chi sta guardando questa intervista e sta pensando di iscriversi al programma? Beh allora diciamo che è una scelta sicuramente non banale non da prendere alla leggera perché a parte dal punto di vista economico che può essere impegnativo ma è impegnativo anche proprio per quanto riguarda l'aspetto dell'impegno e di come va affrontato qui tutto il percorso quindi posso anche capire chi magari ancora può avere dei dubbi o delle paure però insomma diciamo che un po' sono requisiti fondamentali quando si vuole fare qualcosa di fatto bene bisogna dedicarci tempo e anche denaro quindi sicuramente per chi ha questi requisiti consiglierei di buttarsi di fare il passo insomma e di provare perché comunque sia un percorso molto interessante e sicuramente può portare benefici concreti e ottimi risultati quindi è un percorso valido e lo consiglierei sicuramente Grazie, grazie mille Alessio ti auguriamo ogni successo nel trading come diciamo sempre speriamo di vederti anche nel contest e grazie di nuovo per il tempo che hai condiviso con me Grazie per il tuo tempo di questa intervista speriamo di rivederci Ciao, ciao